ciao a tutti benvenuti a uno dei tanti video di tutorial song tutorial song per chi non lo conosce cos'è sono dei video dove verranno analizzati alcuni brani alcuni passaggi di alcune canzoni dove andrò a spiegare lentamente e in maniera chiara come eseguire determinati brani il brano di questa sera prendiamo il riff di minimoog del famosissimo brano della premiata funeria marconi celebration o in italiano è festa andiamo a vederlo ok cominciamo a guardare la tonalità la tonalità è quella di mi maggiore che la tonalità originale del brano della pfm il brano a velocità naturale normale è così ok andiamo ad ora ad analizzare nota per nota la prima nota è il mi mi dell'ottava dopo re do diesis si la sol diesis fa diesis sol diesis la si la sol diesis fa sol diesis la e riprende no Grazie a tutti. L'importante è il passaggio del quinto dito sul do diesis quando si comincia a lavorare su queste note qui. Quindi, mignolo sul do diesis. Ok.